Buonasera amici di Clan Legitalica Gaming da parte di Admiral Nelson e ben ritrovati in un nuovo video su Europa Universalis 4 quest'oggi andremo ad analizzare gli aspetti salienti dell'ultimo DLC in uscita d'Europa Universalis 4 Emperor Emperor sì in inglese Cosa include? Un papato migliorato, un nuovo sistema per l'impero, il revamp delle rivoluzioni, legemonie, nuove missioni, nuove Defender of Fate, ribellioni eccetera 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 Andremo quindi oggi ad analizzare gli aspetti salienti partendo dall'ultimo Death Diaries che come possiamo vedere dà al papato un nuovo sistema per creare il Kingdom of God semplicemente dal terzo tier del governo andremo a prenderci il Kingdom of God che ci dà chiaramente 10% di manpower, 1% di prestigio annuale e 1% di devozione è interessante una meccanica quindi che migliora il papato similmente c'è anche per gli islamici andando a creare direttamente il califato che comprende l'enormità dei territori islamici dal Nord Africa alla Turchia all'Iraq, all'Iran e alla penisola araba un'altra aggiunta interessante secondo me sono le compagnie mercenary le mercenary companies come sappiamo in Europa Università di S4 prima facevi il template o lo spammavi se c'avevi molti denari oppure cliccavi provincia o direttamente dall'interfaccia boom spam di un mille 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 adesso invece c'è un sistema un po' più diversificato è ancora possibile fare questo ma è anche possibile prendere le compagnie direttamente ogni compagnia è diversa qui ne vediamo tre la Free City, la Free Company e la Flemish ogni compagnia ha un numero di uomini, ha i suoi bonus, ha un suo costo, anche un upkeep e ha il suo generale, alcune di esse perché per esempio la Free Company non ce l'ha ma la Flemish Company che ha un 10% di combattability, di infantry combattability ha un suo generale 2141 ovviamente ogni compagnia ha un numero di uomini diverso, un generale diverso ed è bonus diversi c'è chi da morale, c'è chi da landfire, c'è chi da disciplina, c'è chi da tutti e tre ma ovviamente costano un quadrilliardo quelle che danno tutti e tre e ovviamente bisogna andare a scegliere con oculatezza anche a seconda del nostro patrimonio la compagnia mercenaria da reclutare altra cosa è che da oggi non serve quasi più che il re e la regina si dilettino tra loro per far nascere un bambino semplicemente è stato aggiunto un tasto a meno 20 legittimità e meno 20 di prestigio un erede, RNG non sappiamo le statistiche, non sappiamo niente però la tecnologia, l'evoluzione della paternità e della paternità è arrivata su Europa Universalis 4 tramite l'interfaccia di un semplice tasto quindi ragazzi, ottimo altra cosa è un altro tasto interessante che ci permette di corizzare tutti i nostri core senza farlo uno per volta che era abbastanza molesto devo dire, al costo di X punti amministrativi che è la somma di tutti i core corizziamo finalmente tutto poi abbiamo visto, come abbiamo già detto in precedenza che ci sono nuove missioni per esempio qua vediamo l'Ungheria che ha le sue missioni per quanto riguarda andare a fare lo stato croato più facilmente tramite decisioni è contrassegnato dalla bandierina interessante altra cosa è il reworked del Defender of Fate il Defender of Fate adesso non è più clicco il tasto pago 500 ma ci sono cinque livelli di Defender of Fate ogni livello ha i suoi bonus e ovviamente per raggiungere il livello desiderato di Defender of Fate bisogna fare determinate cose cosa? lo vedremo nell'Ex Explore chiaramente che penso farà il Dictator di questo nuovo DLC che non sappiamo quando uscirà ma anche questa è una novità che diciamo può dare profondità al gioco altro sistema che è più interessante già secondo me sono le Egemonie che cosa sono? ogni tanto ci dice una delle grandi potenze si dichiara Egemonie in uno dei tre rami economico navale o militare facendo ciò ha dei bonus ma anche dei malus qual è il malus? è che le nazioni nemiche avranno un Imperial War Casus Belli contro di noi un Casus Belli che hanno tutte le nazioni indiscriminatamente e che ovviamente ci potrebbe portare una coalizione enorme contro e noi non siamo preparati perché magari siamo siamo coatti facciamo siamo Egemonie ah 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 e poi ci spaccano facile che ciò accadrà quindi bisogna andarci anche oculatamente secondo me questo è più che altro un qualcosa per il late game anche per l'early è per carità però special modo quando siamo pronti ad affrontare guerre grosse 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 che conoscendo la Paradox il sistema sarà buggato e tutti dichiareranno guerra appena ti programmerai Egemonie altre cosette interessanti sono alcuni cambiamenti all'interfaccia per esempio quando dichiariamo guerra un'alleanza o una nazione ci fa vedere le forze in campo senza andare sempre a spulciare il Ledger nonché ovviamente il livello del Manpower facilità ovviamente più facile meglio c'è il Ledger il Multiplier credo e spero che disattivano il Ledger anche questa funzione scompaglia con esso poi ci sono nuove nuove riforme nuovi governi scusate nuovi tier di governo nuove province nell'est nell'ovest nel centro Europa trade companies migliorate ma queste sono tutte cose che ovviamente non vi spoilerò perché andremo a vederle insieme l'Explore cambiamenti a livello navale e di battaglie terrestri ad esempio alcune navi possono disingaggiare a un certo momento durante la battaglia stiamo vincendo e partiamo insomma è sempre qualcosa legato chiaramente all'RNG il sistema di bloccaggio dei porti migliorato ci date bonus o demalus e bloccando un porto è il looting che abbiamo con l'esercito su un territorio lo facciamo anche tramite navi e questo è importante come abbiamo già detto nuovi governi e un'altra cosa importante è la rivoluzione le rivoluzioni sono state cancellate esistono come quando scoppiano ovviamente la Francia ha maggior probabilità di far scoppiare questa rivoluzione come al solito il bonus ma ce ne sono molte non solo quelle grosse come la rivoluzione francese c'è questa The Flower Wars insomma varie rivoluzioni che scoppieranno durante il corso del gioco ovviamente le rivoluzioni grosse sono dal 780 in avanti come al solito ovviamente noi poi esplodiamo tutte e la facciamo scoppiare nel 1720 è possibile però non è detto comunque abbiamo detto che quando scoppia una rivoluzione compare come per le istituzioni il center of revolution e da lì poi la rivoluzione si può propagare anche negli stati vicini una volta poi che la rivoluzione è andata a buon fine e diventiamo rivoluzionari c'è un nuovo parametro che è lo zelo religioso che funziona come l'imperialismo su per giù e ci darà dei bonus o dei malus a seconda dello zelo che raggiungiamo che gli ottenendo anche la gente come possiamo vedere da queste due schermate infine l'ultimo cambiamento di cui vale la pena parlare un attimo è sicuramente quello relativo all'impero non è un cambiamento vocale da quello che ho visto almeno dai death diaries però è qualcosa che può aggiungere un po' di profondità come ben sappiamo c'è già un incidente importante è lo shadow kingdom per l'impero adesso lo shadow kingdom non è il solo ce ne storanno altri ad esempio la rivoluzione olandese non è più scoppiano 47 miliardi di ribelli in ogni città ma è un disastro imperiale che può scoppiare o meno a seconda che abbiamo determinati requisiti ci sono poi degli eventi che possono far arrabbiare gli elettori fa scoppiare le guerre tra gli elettori e l'impero insomma cosette abbastanza carine che spero diano all'Austria il posto che merita all'interno del gioco andandolo a equiparare ad altre potenze decisamente più forti come la Francia o il Regno Unito comunque per oggi è tutto io vi ringrazio per averci seguito chiaramente il mi piace se questo video vi è piaciuto il commento commentate se siete soddisfatti di queste novità del DLC se avreste voluto un DLC più incisivo da parte della Paradox cambiamenti migliori rispetto invece a ciò che abbiamo visto ovviamente se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale da parte mia posso dire che questo DLC visto così potrebbe anche soddisfarmi ovviamente poi andremo si andrà in game a dare la vera e propria valutazione vi do qualche info data di uscita non la so chiaramente il prezzo penso si aggirerà sui 19,90€ che è il prezzo di La Resistance di Airsoft Iron 4 oppure 15€ non lo so comunque da 15 a 20 il range è quello la Paradox la conosciamo bene e purtroppo ci dobbiamo accontentare comunque signori dalla clausura è tutto Admino al Netson vi ringrazia e vi saluta un arrivederci al prossimo video Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti